vieni un attimo per favore vieni un attimo subito che hai fatto qua chi è stato a fare cosa vieni a vedere ha scritto il penarello c'è stato secondo te chi può essere stato? c'è stata te? no mi si era fatto il penarello che vuol dire? mi si era fatto il penarello? tu lo sai? il penarello si era fatto così ma è scritto Lazio ma ce l'hai a timbro timbro timbra Lazio? ma sai che devo via provvedimenti questa cosa?